Buongiorno ragazzi, come va oggi? Tutto bene? Ok, allora oggi siamo a martedì 28 aprile Sono qui con la mia assistente Ciao, buongiorno ragazzi E oggi, visto che stiamo parlando delle ricette come stiamo parlando della resetta le voi a esplicare come hacemos el caffè il famoso espresso italiano con la mokka Allora, vediamo i nostri ingredienti Abbiamo il caffè il caffè la mokka questa è la nostra macchinetta della mokka lo zucchero e le nostre tazzine per mettere il caffè espresso Ok? Allora, iniziamo Prima di tutto apriamo la mokka apriamo togliamo il filtro e mettiamo in questa parte l'acqua aiutante, per favore ponemose l'acqua e mettiamo in questa parte l'acqua Rimettiamo il filtro dentro la mokka e andiamo a mettere il nostro caffè macinato riempiamo tutta la capsula con il nostro caffè Ok, una volta riempita la capsula con il caffè il filtro chiudiamo bene la mokka chiudiamo bene e la mettiamo sul fuoco e accendiamo il fuoco Dobbiamo aspettare qualche minuto per far bollire l'acqua per che gli ermi e l'agua gli esca il caffè E ti sto In questo momento sta uscendo il caffè vedete che sta uscendo perché l'acqua sotto bolle ed esce il caffè aspettiamo un attimino che si riempia e che esca tutto il caffè per poterlo versare nelle tazzine Ecco, sentite il rumore del caffè questo è il tipico rumore del caffè che bolle infatti è uscito tutto il caffè Una volta che il caffè è pronto lo versiamo nelle nostre tazzine Ed è pronto il nostro espresso Grazie signorina Di niente Ecco fatto, il nostro espresso è pronto lo possiamo servire in un vassoio e a piacimento a piacimento mettiamo lo zucchero Prego Mescoliamo sciogliamo bene lo zucchero e dimostriamo il nostro caffè Buonissimo Ciao ragazzi, ci vediamo domani Ciao, saluta Ciao Ciao Grazie.